Il pieno accesso alle informazioni e alle prestazioni sanitarie è un presupposto importante per il godimento dei diritti più fondamentali. Purtroppo, nel nostro paese, le persone sorde incontrano ancora oggi innumerevoli barriere e comunicative, che influiscono negativamente sulla loro salute e sul loro benessere. La pandemia di Covid-19, iniziata nel 2020, non ha fatto altro che mettere in luce ed accentuare le discriminazioni di salute che vivono quotidianamente le persone sorde. Negli ultimi due anni, con il progetto Come ti senti, l'ENS ha cercato di promuovere nella comunità sorda salute e prevenzione con seminari accessibili, di contrastare le disuguaglianze di salute con un corso di sensibilizzazione sul paziente sordo destinato a tutti gli operatori sanitari e di combattere disinformazione e fake news con la pubblicazione di un'app, dove troverete video in lice, sottotitolati e messi in voce, su temi legati alla salute. Noi continueremo a fare la nostra parte, ma è lo Stato che ha la responsabilità di garantire a tutti i suoi cittadini, comprese le persone sorde, il diritto alla salute e pari accesso alle prestazioni sanitarie.